Sarà anche soprannominato The Rock, ma anche Dwayne Johnson e i suoi punti deboli, a quanto pare uno di questi è quello di essere un po' imbranato. Alla rivista People, che gli ha posto una serie di domande sulle ultime cose fatte, viste o sentite, sull'ultima volta che ha perso il cellulare, Dwayne ha risposto Ho una relazione di odio e amore col mio telefono, ed è il motivo per cui ne ho due sono entrambi impermeabili. Ho la particolare abilità di andare in bagno e far cadere il cellulare proprio dentro al water. Sono alto 1,95 m per cui la caduta è anche dall'alto. Un altro punto debole dell'attore? Dwayne Johnson si è commosso guardando The Notebook, il film con Ryan Gosling e Rachel McAdams. L'avreste mai detto?